Quella che vedete alle mie spalle è un'apparecchiatura modernissima di radioterapia che si chiama ETHOS. Questa apparecchiatura è caratterizzata da una peculiarità specifica, quella di avere un sistema di intelligenza artificiale a bordo. Questo sistema di intelligenza artificiale ci consente sostanzialmente di incrementare i livelli di precisione perché durante ogni singola seduta di radioterapia riusciamo ad effettuare il piano di cura perfetto. Perfetto perché rispecchia quelle che sono le caratteristiche del paziente quando noi lo vediamo, cioè nel momento in cui è sul lettino ed è pronto per essere trattato. L'apparecchiatura ci dà quelle informazioni necessarie per fare quelle correzioni in tempo reale e quindi minimizzare gli errori del posizionamento. Bastano alcuni millimetri per essere fuori dalla zona da colpire e nello stesso tempo ci consentono un aumento della precisione in termini di riduzione del coinvolgimento degli organi sani. Quindi in pochi secondi noi riusciamo ad effettuare le modifiche con un nuovo piano di cura direttamente quando il paziente è pronto per fare la radioterapia e in questo modo abbiamo una radioterapia ultra personalizzata. Questo è il quarto dei acceleratori lineari presenti nel Dipartimento di Radioterapia Oncologica Avanzata che assume un assetto tecnologico davvero unico. Abbiamo Unity che è un'apparecchiatura con risonanza magnetica 1.5 integrata nella sala di trattamento e a quell'apparecchiatura che già era unica in quanto presente solo fino a poco tempo fa nel nostro ospedale si aggiunge adesso ETHOS che con l'integrazione dell'intelligenza artificiale e con la rapidità dei trattamenti va a complemento, cioè va a completare quella che è l'offerta terapeutica di massima tecnologia e ultra precisione che il nostro Dipartimento può offrire ai pazienti oncologici. Grazie